Ciao a tutti popolo di Avriai, un salutone dal vostro Green, siamo tornati qui su FIFA Ultimate Team World Cup questa volta con un bello squad builder di una rosa sudamericana ragazzi allora cominciamo subito parlando del portiere, intanto selezioniamo Sud America ci mettiamo, eccolo qui, Claudio Bravo, portiere cileno che gioca in Europa con il Real Sociedad se non erro coppia di difensori centrali, diciamo che questa è una rosa che non ha grossi problemi di essere sbustata perché i giocatori non sono diciamo rarissimi, abbiamo Dante e dove l'altro? Eccolo qui Perea ragazzi, allora come avete visto io ho tanti giocatori ma perché Dante e Perea? Dante perché ha un valore molto alto di difesa e di colpo di testa Perea è velocissimo, difesa e colpo di testa sono dei valori buoni, comunque 75 e 76 Terzino destro, questo qui ragazzi è un giocatore veramente che ho trovato a essere fenomenale è questo 67 di overall, il Paredes ha questo 93 di velocità ma l'ho visto veramente fisicamente fortissimo fisicamente fortissimo, una cosa mostruosa l'overall, il suo valore è un 67 è basso quindi è molto facile da sbustare ma fidatevi a parte che è velocissimo ma proprio è devastante, devastante dall'altra parte abbiamo il conosciutissimo da noi Armero anche lui molto veloce, ho visto che però ci mette un po' ad ingranare la marcia C-D-C perché questo è un 4-3-3, quello con il centrocampista difensivo centrale ci mettiamo il nostro bel Luis Gustavo, 81 di overall per lui batte come un fabbro in mezzo, veramente perfetto i due centrocampisti centrali, andiamo a vederli subito allora uno è Fernandinho, vabbè il giocatore di Manchester City questo qui è veloce, ha un buon tiro, come vedete gli overall non sono altissimi sono tutti intorno all'80 o anche meno per cui sono giocatori che non sono rari e quindi se avete sbustato un po' fate veramente poca fatica a trovarli l'altro è González della Lazio, questo qui diciamo è buonissimo giocatore non ha niente di speciale però in mezzo al campo fa il suo dovere l'attaccante centrale, io ho provato Higuain però devo dire che non mi è piaciuto tantissimo preferisco di gran lunga Ramos per la sua velocità e per il suo colpo di testa 86 velocità, 86 coppo di testa, in questo modulo qui sono perfetti alla destra abbiamo Lucas è anche l'unica ala che ho trovato e che ho provato fino ad ora ma veramente ottimo ragazzi perché soprattutto ha buona velocità grandissimo dribbling, un tiro molto buono e questo 74 non gli rende giustizia e poi la stella ovviamente, la sinistra questo si è il giocatore che si fa un po' più fatica a sbustare ma essendo comunque questa modalità con i giocatori solo delle nazionali diciamo c'è molta più probabilità di trovare giocatori forti ed è Neymar ragazzi, Neymar fa i numeri allora intanto che ci guardiamo qualche clip parliamo di questa rosa il portiere è veramente buono perché ogni tanto vi fa di quei salvataggi incredibili i due difensori centrali però è molto veloce Dante dovete stare un po' attenti perché sale abbastanza quando andate in attacco i terzini, Armero è velocissimo Paredes è una cosa veramente eccezionale se l'avete trovato provatelo lasciate stare il suo 67 di overall perché è veramente un fenomeno a centro campo abbiamo sostanza e qualità perché comunque Luis Gustavo e soprattutto González danno abbastanza sostanza in mezzo Fernandinho è uno con cui potete triblare, passare e andare anche al tiro poi davanti avete un trio veramente fenomenale velocità in tutti e tre i giocatori sia Neymar che Ramos che Lucas tiro, vabbè, Neymar fantastico Lucas anche qui grandi dribbling, grandi passaggi Ramos che ha un tiro buonissimo ma soprattutto ha un colpo di testa che se non la punta in mezzo la mette quasi sempre dentro questa qui è veramente un'ottima squadra che non vi richiede chissà quale dispegno di crediti in sbustate allucinanti per il mio Sud America diciamo questa è una squadra perfetta buonissima, veramente ci ho vinto il mondiale tranquillamente senza problemi signori, come sempre fateci sapere con un commento cosa ne pensate se avete provato qualcuno di questi giocatori e soprattutto fatemi sapere se avete provato il terzino Paredes perché per me è veramente fortissimo ovviamente iscrivetevi qui sul canale di Avery Eye e come sempre ragazzi ci vediamo al prossimo video stay barba e stay qualità ciao belli